Allora signori, in un film di Hitchcock, un film bianco e nero, fece vedere un signore, cioè ci stava un signore che parlava della parte della chiesa demoniaca, della chiesa consacrata, non mi ricordo che è un compliceo che cos'era. Allora diceva che siccome ci stava la chiesa cristiana che si aveva inventato il segno della croce, fatto con la mano destra, perché la si significa tutta un'altra cosa. Comunque diceva che siccome la chiesa si era inventato il suo simbolo, allora anche questi dei dolori di sata, non mi ricordo neanche come si chiama, si era messo a dire che pure loro si hanno inventato il loro simbolo, che dovrebbe essere questo cosa qua, che dovrebbe indicare la testa del diavolo con le corna, cioè io questa avevo sentito, questa e allora mi sono messo a voler ve lo dire, però col tempo qualcuno l'ha usato per farci un'altra cosa, Fonzi ci ha fatto, ehi, buonanotte sanatura, vabbè stanno andando a cercare, salvo, salute 臉. Grazie.